in duomo l'ultimo saluto a roberto biagiotti addio a claudio pandolfi indimenticato presidente della vis con la cocaina nello scooter per disabili denunciato 33enne nuovi spazi per l'arte ecco la galleria rossini roff già svelato il programma 2024 buona serata a tutti voi amiche amici di rossini tv ben ritrovati a rossini news in questa edizione del nostro telegiornale di lunedì 14 agosto che apre la settimana di informazioni in quella che la settimana per eccellenza dedicata alle vacanze la settimana di ferragosto che sarà domani appunto martedì oggi però apriamo purtroppo occupandoci di diversi lutti che hanno caratterizzato gli ultimi giorni nella città di pesaro a cominciare dalla prematura scomparsa venuta giovedì del consigliere comunale e provinciale roberto biagiotti salutato questo pomeriggio in un partecipato funerale nel duomo di pesaro un picchetto condiviso fra i militari del 28esimo reggimento pavia e gli agenti della polizia locale hanno accompagnato nel duomo di pesaro il ferretro di roberto biagiotti nell'ultimo saluto all'avvocato consigliere comunale e provinciale venuto a mancare giovedì all'età di 40 anni metà dei quali trascorsi nel costante e generoso impegno al servizio della vita pubblica uomo di istituzioni e uomo di legge valori in cui biagiotti credeva fermamente e quali oggi ha reso onore in duomo la silenziosa e commossa partecipazione dei sindaci di oggi di ieri ricce ceriscioli e di gran parte di giunta e consiglio comunale che sull'altare ne hanno decantato l'impegno e l'amore per la sua città cordoglio anche dal presidente della provincia paolini di esponenti del consiglio regionale e del parlamentare carloni con cui biagiotti ha condiviso le esperienze politiche a sostegno della lega politici senza distinzione di schieramento uniti nell'addolorato silenzio per la perdita di un uomo leale strappato brutalmente all'affetto dei suoi cari da una malattia infame un cordoglio al quale si sono unite anche gran parte delle forze dell'ordine e della sicurezza in duomo presenti anche delegazioni del comando dei carabinieri dei vigili del fuoco della protezione civile e poi ancora il mondo dell'avvocatura e quello dell'equitazione professioni e passione nei quali biagiotti si è dedicato anima e corpo e sono state accompagnate da voce rotta dall'emozione l'elogio funebre dell'amico giulio così come l'omelia di don giampiero cernuschi che da educatore è stato insegnante di roberto 30 anni fa e l'ho accompagnato anche nei giorni più recenti della malattia dall'altare ha rivolto una carezza di conforto ai familiari che in questi giorni hanno perso un figlio un fratello o chi come cadigia ha perso un compagno di vita e il papà del piccolo nicolò di appena due anni un corridoio d'onore accompagnato fra gli applausi e l'uscita del ferretro dal duomo verso il trasferimento al cimitero di trebbi antico ieri mattina è venuto a mancare all'età di 62 anni claudio pandolfi imprenditore titolare dell'ipan scatolificio ma soprattutto indimenticato presidente della vispesero pandolfi si è spento dopo un anno di strenua lotta con una malattia decine messaggi di cordoglio da tutto il mondo del calcio bianco rosso verso un uomo appassionato pacato e generoso con cui la visse ha scritto una lunga pagina di rinascita lui e giuliano castellucci erano i presidenti del villa 95 poi villa pesero dalle quali fecero ripartire la vis dal fallimento nel 2008 e claudio pandolfi ne restò al timone con leandro leonardi in lunghi anni di dilettantismo fino al 2017 quando cedette la società a marco ferri pandolfi lascia la moglie simonette le figlie giada e giorgia mercoledì alle 16 il funerale in un luogo a lui molto caro come il campo sportivo di villa ceccolini ed è invece morto all'età di 98 anni padre giuseppe guiducci parte integrante della comunità dei francescani minori nella chiesa di san giovanni battista padre giuseppe fu esorcista dell'arcidiocesi e storico cappellano dell'ospedale san salvatore mercoledì 16 agosto alle 10 30 si terrà l'ultimo saluto nella chiesa di san giovanni in via passeri e cambiamo argomento girava con uno scooter per disabili spacciando cocaina si tratta di un 33 n di origine marocchina pluripregiudicato che è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri di pesaro su di lui gravavano diversi sospetti e ad un controllo e una perquisizione dei militari è stato trovato con mille euro in contanti ovvero una cifra sproporzionata alla sua situazione di indigenza ma soprattutto in alcune parti meccaniche della carrozzina su cui viaggiava sono state trovate occultate diverse dosi di cocaina pronte per lo spaccio sono in corso le indagini per allargare la direttrice dello smercio di stupefacenti in questione da questo weekend il centro storico di pesaro ha un nuovo luogo dedicato a esposizioni d'arte vediamo di quale si tratta in questo servizio il canto di polina nichina mezzo soprano vincitrice delle rossini international award 2023 accompagnato dal pianoforte di mari batilashvili il tutto attorniato dalle immagini della mostra fotografica orizzonti il dono del cuore primo concerto e prima esposizione all'interno della galleria rossini nuovo spazio culturale della città di pesaro che eredita e amplia in via rossini quella che era la funzione della piccola galleria comunale di via branca un nuovo spazio che arricchisce il percorso di pesaro capitale italiana della cultura 2024 e rafforza la geografia urbana e culturale attorno a casa rossini abbiamo chiamata galleria rossini non tanto per mancanza di fantasia ma quanto perché proprio è adiacente a casa rossini e ne avrà anche gli stessi orari e la stessa e la stessa gestione è un'opportunità espositiva in più per la città oltre al salone palazzo gradari oltre alla sala laurana che sta ospitando mostre verrà anche questa presto riqualificata per farlo ancora meglio però una vetrina così importante su via rossini è un luogo anche più di passaggio dei cittadini ma come dei turisti è un'opportunità in più che si offre agli artisti del territorio per esporre le proprie opere in particolar modo quadri pittura perché poi rimarrà anche lo spazio bianco di via zongo ulteriore galleria espositiva per la fotografia in particolar modo per la fotografia del territorio è chiaro che la vicinanza con casa rossini non poteva non ispirare anche un connubio musicale sentiamo anche non solo oggi per l'inaugurazione ma in realtà vivrà spesso anche di concerti non solo non tanto nella sala principale della galleria quanto nella L che collegherà abbracciando via rossini alla vicina via gavardini in questi giorni per capirci ospitata la gavardiana per una galleria passante che permetterà di entrare via rossini e uccidere via gavardini e anche incontrare dei piccoli concerti nel locale appunto la sala osmil dei gabucci che si è stata donata dalla famiglia gabucci pardini e che ospiterà mostre legate a rossini e alla musica ma anche momenti musicali e momenti anche di incontro della città crediamo che sia giusto inaugurare in questi giorni che il momento di massima attenzione musicale e artistica è legato a roff ma che sarà anche molto amato nei 12 mesi dai cittadini i pesaresi e degli artisti e anche dei turisti in primo modo poi in vista anche dalla capitale italiana 2024 Tanti i pesaresi presenti al taglio del nastro che hanno apprezzato il nuovo luogo e applaudito la prima mostra Abbiamo una mostra dedicata al cuore, al cuore a specchio che Vittorio Livi ha dedicato al premio Rossini International il premio del concorso Città di Pesaro e i riflessi di questo cuore raccontano gli scorci più belli della nostra città il desiderio è proprio quello di rendere partecipi tutti i cittadini di questo concorso musicale ma che oggi diventa anche un concorso fotografico perché l'idea è di raccontare la bellezza della città Questo evento si collega al Fuori Festival che è una rassegna concertistica dedicata ai giovani ma anche a valorizzare i talenti dei giovani quindi anche quelli pittorici infatti avremo con noi anche un pittore Riccardo Venturi che animerà alcuni cortili della città di Pesaro del centro storico tutti legati e vicini quindi a questo luogo che è Casa Rossini Nelle ultime tre serate sono andate in scena altrettante opere che contrassegnano questo 44esimo Rossini Opera Festival è un ROF che però guarda già molto avanti presentando con ben 12 mesi d'anticipo il ricco programma dell'edizione 2024 per l'anno di Pesaro Capitale della Cultura Chiuso il sipario sul primo weekend del 44esimo Rossini Opera Festival la direzione del ROF guarda già alla 45esima edizione quella del 2024 quella di Pesaro Capitale della Cultura un'edizione che è stata presentata con 12 mesi d'anticipo in occasione del secondo ROF Talk tenutosi sabato nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini svelato manifesto, programma e date delle Rossini Opera Festival Extra Large per l'anno di Pesaro Capitale 5 opere e un programma che si dilaterà nei giorni anticipando la partenza al 7 di agosto e chiudendo il sipario il 23 agosto 2024 è un'edizione importante perché Pesaro Capitale della Cultura e diciamo che questa situazione un po' diciamo il ROF ha la contribuita a creare per cui noi faremo un'edizione diversa nel senso che più grande aggiungeremo 4 giorni alla programmazione un totale di 30 spettacoli con 4 titoli diversi 2 nuove produzioni e 2 riprese e mentre questa 44esima rassegna sta consumando il palco della Vitre Frigo Arena il presidente del ROF Daniele Vimini ha assicurato che per il 2024 il festival tornerà al Teatro Rossini e punta ad aprire il sipario con la nuova produzione Bianca e Fagliero nel vecchio palasport di Viale dei Partigiani futuro Auditorium Scavolini Bianca e Fagliero sarà l'apertura e seguirà l'altra nuova produzione Armione mentre i due titoli che riprenderemo sono il barbiere di Pizzi fatto nel 2018 e l'equivoco stravagante fatto nel 2019 con la regia di Leiser e Fagliero e chiuderemo celebrando i 40 anni della prima esecuzione del viaggio a Reims quello diretto da Claudio Abbado e che portiamo come fiore all'occhiello al ROF e sarà un'edizione che chiuderà in forma di concerto il festival con un cast di artisti al top e ROF si sposta ora anche al teatro sperimentale dove il 16 e 18 agosto alle 11 torna il viaggio a Reims la cantata scenica è diventata ormai un simbolo del Rossini Opera Festival dal 2001 il ROF all'interno del suo festival giovane propone l'opera nell'interpretazione di giovani voci formatisi nell'ambito dell'Accademia Rossiniana Alberto Zedda sostenuta dalla Fondazione Meuccia Severi gli allievi della 35esima edizione dell'Accademia saranno protagonisti dello storico spettacolo ideato da Emilio Sagi è ufficiale il CUM Festival che da 7 anni è in svolgimento alla mole vanvitaliana di Ancona nelle 2024 si trasferirà a Pesaro probabilmente nel mese di aprile lo ha annunciato con soddisfazione il sindaco Matteo Ricci che ha raggiunto un accordo con Massimo Recalcati ideatore della rassegna dedicata al concetto contemporaneo di cura in tutte le sue declinazioni è la città di Pesaro apparecchio un martedì di ferragosto ricco di cultura domani saranno aperti i musei civici con le esposizioni, la sonosfera e la mostra dedicata a Lucio Dalla condivisa con il Centro Arti Visive Pescheria aperta a Casa Rossini con la mostra dedicata ai 200 anni di Semiramide e il Museo Nazionale Rossini con la rassegna mattutina concerti al museo e poi spazio all'archeologia dal Museo Oliveriano all'area archeologica di Colombarone e a quella di Via dell'Abbondanza domani sera invece alle 21 è previsto il tradizionale concerto di Ferragosto alla Palla di Pomodoro con il grande show della Queen Mania Tribute Band vi segnaliamo anche che nella mattina di Ferragosto il mercato settimanale si svolgerà regolarmente nell'area del parcheggio San Decenzio di Pesaro nel suo weekend trascorso nelle Marche il sottosegretario al Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi ha anche visitato gli scavi archeologici di Fano in via Vitruvio sottolineando il valore significativo della scoperta in corso Sgarbi accompagnato dall'assessore regionale Stefano Aguzzi dall'assessore di Urbino Elisabetta Foschi si è confrontato con la soprintendente Cecilia Carlo Rosi e con la funzionaria archeologa Ilaria Venanzoni ribadendo la necessità di andare avanti con gli scavi Ed ora ci spostiamo a Piobbico dove al Castello Brancaleoni è stata inaugurata sabato la quarta edizione della mostra Neronart Amiche e amici di Rossini TV oggi si inaugura la mostra Neronart edizione 2023 qua al Castello dei Brancaleoni di Piobbico Gli artisti che ovviamente ringrazio a nome mio e di tutta l'amministrazione si sono cimentati nel fare ovviamente come tutti gli anni delle bellissime opere che contraddistinguono appunto la loro arte e il loro stile ma allo stesso tempo hanno portato sì meno articoli ma molto più significativi quindi anche gli allestimenti risentono di questa modifica di questa minor quantità e sono veramente delle stanze ben allestite L'arte per me è meditazione è bellezza, è sentimento, è passione quindi se l'arte e quindi le mostre che noi realizziamo riescono nel pubblico a trasmettere queste sensazioni io già sono contento così in più sono contento per tutti gli artisti che hanno esposto sono artisti locali poi ci sono alcuni della Valtiberina ma principalmente artisti locali del Montenerone che in poche parole realizzano opere prendendo spunto da quello che è la nostra tradizione e la nostra storia è un orgoglio per me che sono appunto di questo territorio un territorio ricco di arte e di cultura a 360 gradi quest'arte e questa cultura vorremmo portarla anche fuori quindi ho fatto prima una proposta di poter al termine di questa mostra poterla portare appunto in altri luoghi per poter mostrare quello che è stato fatto qui e per fare anche pubblicità alla prossima edizione alla quinta che ci sarà il prossimo anno Il castello è aperto tutti i giorni quindi dalle 9 alle 12 dalle 15 e 30 alle 19 e 3 alle 18 e 30 alle 19 nei giorni festivi e il biglietto di ingresso è 7 euro salvo riduzioni quindi salvo anche scontistica per i gruppi e è sempre possibile visitare la Neronart nel percorso di visita come così è sempre possibile anche senza la presenza di guida godere di tutte le altre stanze quindi tutti i musei del castello e degli appartamenti nobili grazie ad un innovativo percorso di visita proprio dato da Plexiglass Informativi con QR code per audio e videoguida e vi ricordiamo che potrete approfondire la mostra Neronart anche con le voci di alcuni degli artisti che vi partecipano nello speciale che Rossini TV trasmetterà giovedì 17 agosto alle ore 21 e 20 ed ora concludiamo il nostro telegiornale presentandovi un altro dei tanti appuntamenti che caratterizzano l'estate di eventi dell'Arena BCC di Fano il 17 d'agosto sarà la compagnia Art Dream a portare un grandissimo show un grandissimo spettacolo un musical incredibile perché in realtà è come una matrioscana e contiene più di uno all'Arena BCC di Fano sì esatto il 17 agosto arriverà The Greatest Musical Show è un musical che come anticipato il mio caro amico racchiude ben quattro spettacoli che sono Peter Pan, Pinocchio, Notre Dame e The Greatest Showman quest'ultimo dove ha riscosso un enorme successo a Hollywood quindi dobbiamo dire ai nostri amici che verranno di prepararsi a passare la notte qui oppure sarà abbastanza raccolto? no, ovviamente ci sono le parti salienti dei vari musical e come hai detto tu giustamente portati in scena da un'ottima compagnia che è l'Art Dream dove ci saranno in scena ben 20 performers tra artisti e ballerini ed è uno spettacolo meraviglioso perché credetemi ha riscosso successo ovunque è andato e si conclude qui questa edizione di Rossini News prima di salutarci come sempre vi ricordiamo la nostra prima serata che alle 21 e 20 è dedicata a Candele sotto le stelle questa edizione 2023 con vista sul 2024 di anno di Pesaro capitale della cultura rivedremo tutto appunto questa sera alle 21 e 20 vi ricordo che domani martedì 15 agosto non ci sarà Rossini News ma è pronta ai blocchi di partenza delle 7 e 20 orario in cui va sempre in diretta buongiorno Rossini il nostro spazio dedicato alla rassegna stampa dei quotidiani locali che anche nel ferragosto non si ferma ci sarà il nostro Paolo Pagnini a tenervi compagnia rassegna che vi ricordo invece non ci sarà mercoledì 16 agosto giornata in cui non escono i quotidiani in edicola ma facciamo un passo avanti anche alla prima serata delle 15 agosto quella di martedì ancora dedicata a Candele sotto le stelle perché lo spettacolo delle fiammelle si è declinato non solo a Pesaro ma come avviene da 4 anni anche a Gabicemare e Gradara vedremo quanto è successo a Gabicemare martedì alle 21 e 20 e poi sempre a seguire alle 21 e 40 di domani sera vedremo Candele sotto le stelle per quello che è avvenuto invece in quel di Gradara ed è davvero tutto per questa sera vi ringrazio per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di serata e un buon ferragosto in compagnia dei programmi di Rossini TV